Oh mio Dio, Terenas fa un video in cui non gli si vede la faccia, che cazzo è successo? No, molto semplicemente quello che succede è che ho il più gigantesco mal di testa, slash febbre, slash mal di stomaco, slash oh mio Dio, sembri un cadavere l'apo, che cazzo ti è successo? E non mi sembrava molto carino farvi vedere il mio status di salute terribile. Quindi, giustamente, giustamente, cosa faccio? Faccio le patch notes, non lo so nemmeno io come definirle, le definiremo le patch notes ubriache. Salve tutti quanti, io sono Terenas e benvenuti a queste patch notes estremamente strane, lo so che non siete abituati a vedere queste cose e perdonatemi, anch'io sono umano e posso stare male, però rimango un uomo fedele di parola, le patch notes le porto sempre quando posso, non ho potuto farle la volta scorsa perché ero in vacanza e le vacanze sono una scusa migliore di sto male. Chi è debole e sta male può anche non fare le cose, però è una pippa nel mio libro. Io starò male, male faccio, almeno le cose le faccio, ma un po' me. Non ci sarà la mia facciona, almeno qualcuno sarà contento e dice oh mio Dio, no, non posso sossegarmi su Terenas, cazzo, che cazzo faccio durante queste patch notes? Ascolterai la mia voce bellissima e sexy e profonda, mamma mia, che bello. Allora, cominciamo da queste patch note con i cavolacci miei, Yorick è stato reworkato. Dirlo in una patch note è tipo una cosa orgasmica per me, voi non potete capirlo ragazzi perché questo champion è tipo una presa di culo da quattro anni e quattro anni che spero che lo reworkino è finalmente successo. Cioè è una cosa magnifica, vi giuro, una cosa magnifica, finalmente cazzo. Andiamo avanti con Ash che, Ash allora, hanno deciso di reworkargli il volley e semplicemente il rework significa aumentare il cooldown ad ogni livello perché porca puttana è possibile che questa Ash di merda mi tieni in faccia 3 milioni di frecce e mezzo, che cazzo è l'Ego la sporco demonio? In pratica hanno aumentato il cooldown del volley di 3 secondi a livello 1 per poi aumentarlo di un secondo negli ultimi livelli, quindi 3, 2 e mezzo, 2, 1 e mezzo, un secondo su ogni livello della W di Ash. Questo è molto semplice, sensato, considerando che l'Essence River le permette di avere molta cooldown ad action molto facilmente, poi prendendo il Runan diventa, oh mio Dio, Ash ha 3 mila slow ad area, che bello, dovrebbe essere così il champion, però a Riot non piace questa cosa e preferiscono avere un Legolas meno performante. Aurelson hanno fixato il bug che letteralmente ha fatto perdere i CLG alla qualificazione per i mondiali, RIP. Ecco, hanno ridotto l'attack damage di base per un semplicissimo motivo, perché porca puttana, ci vanno in giro gli Ecco con la Trinity Force, e mannaggia Cristo, che cazzo è questa roba, dovrebbe essere un Assassin AP, invece è diventato un Bruiser AD, che cazzo è sta merda? Per tutta la sigla è stato in Ranked, vai a fare in culo Ecco, sei passato dalla Giangola, alla Mille, alla Toplin, alla Mille, alla Giangola, e hai fatto tutti i ruoli, mancava solo il support, in verità, e la di Kerry per un periodo. Andiamo ancora avanti, che hanno deciso di nerfare un champion totalmente a caso, per il semplice motivo che avevano nerfato tutti gli altri, e hanno detto, boh, nerfiamo anche questo, perché gli abbiamo aggiunto un paio di patch fa, 5 danni in più sulla W. Gnar, Gnar hanno ridotto di 5 danni la W, per un semplicissimo motivo, per il fatto che l'avevano aggiunto prima, e adesso vogliono toglierlo per ribilanciarlo, ma hanno detto, ehi, possiamo nerfarlo di più, cosa facciamo? Mettiamo più cooldown sulla E durante l'early game, perché già non ha un sacco di problemi contro i champion, che gli possono saltare addosso in early game, che aveva 18 secondi in cooldown, adesso ne avrà 22 XT! 22 XT! Scusate, l'autismo avviene sempre quando dici 22. E adesso, semplicemente, la E avrà ancora un cooldown più alto, rendendo la spell praticamente inutile in early game, e praticamente costringendoti a prenderla per prima, a maxarla per prima, per avere un cooldown abbastanza decente. Veramente è senza senso sta cosa. Cioè, prima era una cosa bilanciata, ma mettetela, cazzo, mettetela a 20 piuttosto. 22 è vero. È veramente idiota. Lissandra. Lissandra, hanno visto che sta cominciando a tornare, hanno detto, ehi, ma a noi non piace la diversità di champion all'interno degli LCS. Meglio nel farla subito, cosicché ai mondiali non la vedremo sempre. XD, XD, XD. Non che fosse uno dei champion più piccati dagli LCS, era comunque contestato da alcuni team, perché, sai, è un pick strategico interessante a volte. E nulla, hanno deciso di abbassarle la vita per livello di 9, che riduce la vita totale di 162, perché 9 per 18 fa 162, ragazzi, a matematica è una cosa bellissima. Imparatela, perché è molto importante. Per provare, invece, a diversificare un po' la mid lane, che era diventata abbastanza noiosa, con i soliti maghi abbastanza diversificati, tipo Victor e Victor e... non lo so, hanno messo uno slow pochino più forte sull'AE Deluxe, che è leggermente aumentato dall'early al late game, in ogni fase del gioco l'AE è più forte. Ogni livello dell'AE ha uno slow più forte. È bellissima questa cosa. Non che sia la cosa più importante del Gate Deluxe, però, comunque, un aiutino in più non fa mai male, non ci fa mai schifo. Mettiamola così. Miss Fortune. Miss Fortune è una vita e mezzo che, tipo, non ne fanno più una beniamata sega, che non sapevano che cazzo fare con Miss Fortune, e hanno giustamente deciso, boh, potremmo renderla un pochino più forte e tirare giù le torri, e cosa fanno? La passiva di Miss Fortune fa il danno pieno sulle torri. Sono... A livello strategico delle CS farà la differenza. Poi guardo e dico, tutte le altre persone del rank, non piccatela, perché se non sapevate giocarla prima, non giocatela ora. Maledetti bastardi. Nocturne, questo è... Oh, finalmente è una cosa che non vedo. Un buff a Nocturne. Wow, è incredibile. Cioè, ragazzi, in season 3 e 4, se voi dicevate che volevano buffare Nocturne, la gente scoppiava a ridere. Nocturne è stato, tipo, uno dei champion più nerfati della season 2, e, tipo, ai livelli di Rely e altri champion. È stato fantastico vedere Nocturne essere nerfato, 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 Cosa hanno deciso di fare? Hanno deciso di aumentare la durata del Sofia, dell'unspeakable horror, di un quarto di secondo. Grazie. Un autoattacco in più, forse, potrò fare sui miei avversari. Ti voglio bene, ti voglio bene, Riot. Rek'Sai. Rek'Sai. Volevano renderla un champion tipo Riven, che nella loro mentalità, quando hanno fatto Rek'Sai, hanno detto, secondo noi è un champion tipo Riven. Già, un champion che ha un knock-up ad aria, sicuramente finirà per essere un champion come Riven. Sicuramente, il fatto che può vedere gli avversari, che dà utility al team, sicuramente è un champion come Riven. Certo, Riven è piena di utility. No, rega? Si sono accorti che Rek'Sai in verità è un champion che porta utility al team, però hanno detto, merda, ha troppe difese per essere un champion del genere, dobbiamo nerfarla. E quindi hanno deciso di ridurre l'armor, e l'armor per livello, in maniera che in early game, la giungla ti picchi un po' più duro. E durante le varie fasi della partita, hai comunque più problemi a duellare un champion avversario, soprattutto se è a D, per il semplice fatto che hai meno armatura. Il che mi rende molto triste, perché Rek'Sai era un champion che mi divertì a giocare. È stato bello Rek'Sai, ci vedremo all'inferno. O al prossimo rework, o al prossimo buff, o al prossimo oggetto da bruiser. Rise. Rise hanno semplicemente... No, non vi dico neanche che ci hanno fatto Rise, è inutile, perché... Wow, abbiamo fixato il tooltip e il range indicator. Grazie, vi voglio bene Riot, che fate le cose a metà quando buffate i champion. Pigrizia, oè? Shen, ci sono accorti, ma nel tempo libero, quando erano molto molto annoiati, si sono accorti che Shen è letteralmente uno dei pick più opprimenti della top lane da quando hanno nerfato tutto. Avendo nerfato tutto in top lane, Shen è diventato il classico d'accordo, oh, guarda, sono un tank e faccio più danni di tutti gli altri, per quanto io sia un tank, quindi prendete il cazzo. La cosa è che Shen dovrebbe essere un champion di merda in Lening Phase, però aiutare il suo team con la sua ultimate. La cosa è che non era così, non era per niente così, a nessuna fase del gioco era così. lui a livello 6 ultava, perdeva 3 wave di Mio, che diceva, ah, ho recuperato, ho preso il vantaggio di farm. JK poteva comunque outraddarti, perché aveva uno scudo stupido, e un danno stupido, grazie alla Q, quindi hanno nerfato entrambi, ridotto il valore dello scudo, e ridotto la quantità di danno che può fare con la Q. Magnifico, bellissimo, grazie Riot, che sei sempre sul pezzo, dopo 3 patch, giustamente. Talia, 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 hanno capito che una volta che metti le combo che funzionano correttamente, che non sono bloccate da un sistema interno, che la Riot ha deciso perché, se no, il champion, le prime due patch non deve per forza funzionare bene, nella mentalità del game designer che ha fatto questo champion, ha detto, no, le prime due patch voglio che faccia vomitare al cazzo, perché? Perché non permetto di fare una meccanica, perché sono stupido. Poi si è deciso, dopo che praticamente tutti gli dicevano, di***a, metti quella f***a di meccanica dentro, perché se no il tuo champion fa vomitare, si è deciso a metterla, adesso il champion funziona, ed è troppo forte, perché aveva baffato tutto, prima di potermi inserire, prima di inserire quella meccanica. Ha rimosso il danno bonus ai minion, del 50% da parte della Q, la Q faceva danno bonus ai minion. La E, invece, hanno ridotto il danno, perché? Perché adesso era troppo facile utilizzare la E, avevano già ridotto il danno dopo che avevano inserito la meccanica, quella che fa funzionare il kit nell'intero, però hanno ridotto ancora il danno, perché sai, quando il champion ha danno stupido, ma non puoi utilizzarlo, capisci quanto è forte, solo quando ti permettono di utilizzarlo, dopo due patch, grazie. Vladimir, oh, qua, qua si sono accorti, una cosa molto strana, si sono accorti di una cosa, e hanno anche corretto abbastanza bene, che cosa hanno intenzione di fare. Molto semplicemente hanno ridotto la quantità di vita base di Vladimir, che è sensato, ci sta benissimo, hanno ridotto la quantità di cura della Q potenziata di Vladimir, che è sensato e ci sta tutto, anzi a prova in pieno, bravissimi, e hanno ridotto addirittura l'utilizzo della E, in early game avrà più cooldown, quindi non ti permetterà di wave clearare. Wow, vi siete accorti di tutto in questo caso, ragazzo, cioè, fate delle cagate, e poi fate delle cose giuste, ma io vi voglio bene, cioè, per quanto posso odiarvi a volte, vi voglio bene, almeno non mi trovo più sti Vladimir di merda, che poi, nella maggior parte dei casi, finiscono 1-6, però sti cazzi, rimanendo in tema di champion, che finiscono 1-6, Yasuo, voi, voi, Cioè, mi sta venendo, mi sta venendo male, soltanto a parlare di sto champion, siete delle persone orribili, voi che lo mainate, sempre stati, sempre lo sarete, non c'è modo per evitarlo, mi dispiace, cioè, è proprio parte della vostra essenza, proprio essere più brutti degli altri, o più stronzi, non so quali i due, magari siete belli, allora siete più stronzi, per forza di cose, anche se siete brutti, siete stronzi in più, molto semplicemente, hanno aumentato l'attack speed di base, ma hanno ridotto quanto cresce per livello, la cosa più importante però, che fino al fucking mente, hanno detto, ma guarda, non lo so, forse dare armor penetration, in qualsiasi caso a Yasuo, non è una cosa che potrebbe essere molto bilanciata, adesso l'armor penetration bonus, la ottieni soltanto quando fai un danno critico, nel senso che, quando tu criti, hai l'armor penetration bonus, quando non criti, non ce l'hai, a sta maniera, non puoi fare quella build di merda, che mannaggia Zeus, porca puttana, chi è ritardato, che gli è venuto in mente, alla Riot, di mettere il fervor battle, che si energizza così bene, con Yasuo, che sarà sempre quello il problema, e finché non lo capiscono, continueranno a nerfarlo, l'armor penetration, di Yasuo, funziona solo sui critici, cosa vuol dire, la build di merda, che è frozen mallet, e phantom dancer, che praticamente permette a Yasuo, di diventare un bruiser, e non un melee carry, come dovrebbe essere, gli permetteva di fare, il cazzo che voleva, adesso non può più farlo, perché solo quando critta, farà effettivamente danno, meno male, porca puttana, cioè, è già qualcosa, ma tanto, poi si accorgeranno, a fine season, arriveranno, diranno, cazzo ragazzi, cosa vogliamo fare, per la season 7, ma guarda, nerferimo, la fucking fervor battle, perché si siamo accorti, che sui melee carry, è una porca puttana, nitrogliata, lo so già, finirà per così, lo so già, io sono sempre, leggente, ma nessuno mi crede, mi danno del pazzo, poi mi danno la rapa, o te la tiri un po' troppo, su quanto, su quando dici le cose, e poi tre patch dopo lo fanno, e io sono lì zitto, che non dico un cazzo, la gente se l'ha già dimenticato, però, e nulla, me la sento, perché porca miseria, oggi sto male, e non ho voglia di filtrare i miei pensieri, andiamo avanti, forse e mallet hanno deciso di farlo, mettendogli più HP, e meno danno, a prova in pieno, ha totalmente senso sta cosa, è giustissima, la provo in pieno, e finalmente anche, perché è un po' palloso, il fatto che, non sia possibile effettivamente, combattere contro chi ha prose e mallet, perché ha sia danno che vita, almeno adesso hanno un po' meno danno, e un po' più vita, almeno, è tankoso, ma è solo fastidioso, si sono accorti anche alla Riot, che i support, soprattutto in bottom lane, sono tendenzialmente, quasi tutti dei tank, o comunque quelli che favoriscono, il relic shield, per andare un attimo ad aiutare, tutte le altre tipologie di champion, hanno messo che, molto semplicemente, le cure del relic shield, sono ridotte di 5, grazie Raio, talmeno un pochino di po' che sarà utile contro quei champion, dannati in bottom lane, nulla, questo è tutto quanto, praticamente adesso, stanno per uscire, le skin di Baker Pantheon, finalmente Pantheon panettiere, arriva, Leona Barbecue, Olaf, è tipo macellaio, grazie, grazie cervello, e sashimi akali, che non capisco perché sashimi akali, perché il sashimi, è una tipologia di sushi, e non il nome del cuoco, che fa sushi, ma va bene così, e infine c'è il championship Z, che verrà rilasciato, quando inizieranno i mondiali, o comunque saremo vicino all'inizio, i mondiali, ragazzi queste sono, delle patch nozù, un po' diverse dal solito, mi dispiace se non vi sono piaciute, ma porca troia, sto male, sono umano anche io, e lasciamo perdere, ci vediamo al prossimo video, io sono Terenas, bella, ah ah ah,